Hello guys, Koto here e bentornati in questo nuovo video di My Hero Academia The Strongest Hero Oggi andremo a pullare come dei matti sul banner del World Heroes Mission che stanno ormai per finire Andremo a parlare delle probabili a questo punto skin natalizie che stanno per arrivare Ne parleremo un pochino perché ci sono veramente troppe coincidenze a riguardo Prima di iniziare io vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi nel caso non avete ancora fatto E noi ci rivediamo dopo la sigla Allora come detto poco fa siamo ormai agli sgoccioli del banner riguardanti i personaggi della World Heroes Mission Tutti e tre i banner andranno via il 22 di dicembre quindi mercoledì abbiamo però una piccola modifica Il banner delle carte attive e il banner delle carte personaggio andrà via appunto alle 5 del mattino sempre del 22 Mentre le carte passive andranno via alle 12 sempre del 22 Questo vuol dire che su questo banner avremo una pull singola in più gratuita Perché dite? Perché questo banner è stato rilasciato con qualche ora di ritardo Dato i problemi tecnici dei devs Tenete bene a mente questi piccoli dettagli perché dopo ne riparleremo quando andremo a parlare delle skin Io andrei subito a pullare velocemente sul permanent Facciamoci questa multisimultina magari Questa singola gratis e troviamo Kirishima a posto Fatemi come ogni volta alzare il volume per le nostre multi Ok perfetto abbiamo circa una cinquantina di pull da fare Abbiamo le tre giornaliere abbiamo 0 ticket qui 11 ticket qui 32 ticket qui E altri 5 ticket che prenderemo con l'Hero's Gift Quindi bando alle ciance iniziamo subito col banner delle carte attive Come sempre mi manca la carta centrale speriamo in un miracolo degli ultimi giorni Allora Facciamo uno sgorbio a caso Combat Fist Ottima carta ma purtroppo non è una 6 stelle Lacrime per noi Andiamo ora sul banner dei personaggi Abbiamo due singole e una multi Quindi vediamo se il gioco ci riserva qualcosa Non ho visto il pity dovrebbe essere abbastanza basso Facciamo un cuoricino a caso Vediamo assolutamente no sempre Kirishima Il pity è a 15 quindi non penso veramente di trovare nulla Anche perché siamo appunto molto molto ma molto bassi Qui facciamo uno sgorbio a caso Va benissimo Deku quello sbagliato ma va appunto benissimo Quindi multina per cercare di trovare qualcuno Sinceramente se dovessi scegliere spererei di trovare Deku Perché diciamo che è quello che fa più danni dei tre by far Quindi multina veloce E andremo a disegnare le nostre cotolette Bellissime Facciamo una cotoletta Che poi in realtà ragazzi Noi c'è io Tanto le chiamo cotolette Ma questa sembra tutto Tranne con una cotoletta Vabbè Signori Cotoletta Impanati Facciamoci sentire 3, 2, 1 Assolutamente nulla Oh giro Va bene Per un secondo pensavo di essere io qua sopra Ad aver pullato qualcosa Ma assolutamente era solo un sogno Qua invece nel banner delle carte passive Abbiamo 32 ticket più una gratuita Quindi 33 pull più 5 che prenderemo tra poco Allora Prima singoletta Qua ovviamente non facciamo nulla Tiger Perfetto Cioè perfetto Raga Avete capito Altro sgorbiettino Ok Allora Parliamo un attimino Anzi facciamo questa singoletta ultima E poi andremo ovviamente di multi Riga Va bene Allora Io di carte ho Quelle che davano gratis con Todoroki Quelle che davano gratis con Bakugo E ho entrambe le carte di Deku Quindi io spererei di trovare ovviamente la carta mancante di Todoroki Bakugo non mi interessa troppo sinceramente Ma se dovessi scendere chiaramente andrei per prendere l'altra Perché è quella che mi serve per completare il set Deku spererei di non trovarlo Però al massimo ne porto una al due Che ripeto Deku è il miglior personaggio delle 3 Quindi sarebbe tanto di guadagnato Prima multi per noi Allora facciamo Facciamo Scriviamo Deku Così lo so Ho appena detto che non voglio trovarlo Ma scriviamo Deku Così magari Tricchiamo il sistema Nel non farci trovare Deku Riga Super mega strategie No Non ha funzionato Non ha funzionato Quanti 4 stelle Va bene Va bene Quindi Prima multi Andata un po' maluccio Sinceramente Andiamo con la seconda Qua che si disegna Qua ovviamente Deku prima Poi andiamo con To Quanto in grande Cioè quanto in alto sto scrivendo To Do Ro Chi E ci faccio anche Un cuore Arriva sicuro Garantito Forse no Non è Todoroki questo vero? Me lo ricordavo di ve Quante 5 stelle qua in questa multi? Due? Va bene Meglio di nulla Prendiamo quello che il gioco ci dà Andiamo ora con l'ultima Multi Del Di questo banner Diciamo E qua Chiaramente Facciamo Per non Andare contro Ai Bakugolovers Scriviamo Bakug E facciamo tipo Un'esplosione To Questa È palesemente un'esplosione Ragazzi eh Bam Qualcosa c'è Qualcosa c'è Chi sei? Non No È quella figa È quella buona Va bene Va bene Ho visto combat fist Per un attimo Sono andato nel Valhalla Ragazzi Scusatemi Va bene Ah raga Va bene Come ho detto prima La refino La faccio rank 2 O come si chiama Quindi Andiamo a pre Non si può Non erano 30 Erano solo recruit Dei personaggi Mi scusi lei Ma ci ha scammato qualcosa Ma mi scusi ma Vabbè raga Ci ha scammato Prendiamoci questo Io pensavo Che facendo Sia sui personaggi Sia sulle carte Diciamo Che i pool Avrebbero contato Come Diciamo Step Per arrivare Ai 30 Vabbè 5 pool in meno Fortunatamente Abbiamo trovato La carta 6 stelle Prima Quindi non c'è bisogno Avvio 5 ticket Ora Andiamo velocemente A raffinare Questa carta Non so neanche se Si dica raffinare In questo gioco Ma Va bene così I guess No Tasto sbagliato Breakthrough Bam 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 Wow 15% in più È incredibile Veramente incredibile Allora Sono contento Per le pool Assolutamente Sono andate Meglio di quanto Mi aspettassi Quindi ora Andiamo a parlare Di quello che Si teorizza Succederà Nel mondo Di My Hero Academia The Strongest Hero Nei prossimi giorni Come detto prima Tutti i banner Finiranno Il 22 Di dicembre Ovvero Tre giorni Prima di Natale Come tutti Ormai ben sappiamo Hanno accorciato Tempestivamente La durata Dei banner Del World Heroes Mission Da due settimane A una settimana Sinceramente Secondo me Non c'era Assolutamente Motivo Di accorciare Questa durata A meno che Non avessero In serbo Qualche altro Super mega evento Per noi Considerando che È Natale Considerando che Stanno tisando Da un po' di tempo Un rilascio Di eventuali skin Non si sa Tema cosa Non si sa Di che personaggi E dato che L'unica skin Rilasciata Fino ad ora È il costume Per All Might Non mi sorprendere Nel vedere Nel vedere Delle skin A tema natalizio Di Ochako Di Mina Di Momo O comunque Delle carte Magari attive A tema natalizio Che ne so Faccio un esempio A caso Una Uraraka Che scende dal cielo E al posto Di far cadere Tutte le I mattoni Le piastrelle Quello che lancia Lei Lancia i pacchi regalo È una stupidaggine Ma avete capito Il senso Un Bakugo Che fa esplodere Le cose Ma in realtà Fa i fuochi D'artificio Oppure potrebbero Annunciare Finalmente Un Battle Pass Perché noi ora Ci siamo distratti Con tutti questi eventi Del World Transmission Eccetera Ma il Battle Pass Di Mina È uscito Cos'era ad agosto Siamo a dicembre Ci potrebbe stare Anche che ci fosse Un Battle Pass Con magari anche Delle skin dentro A tema natalizio Quindi sinceramente Non lo so Ma questo Puzza parecchio Cosa ne pensate voi? Siete con me Oppure pensate che sia solo Una mossa di marketing Mal riuscita Da parte dei devs? Scrivetelo qui sotto Nei commenti Per questo video È tutto Io spero che vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare a like E iscrivervi nel caso Non è ancora fatto E noi Ci rivediamo In un prossimo video Cotto Out Grazie a tutti Grazie a tutti.